Usare i punti del supermercato per aiutare le famiglie bisognose a fare la spesa è una delle forme di solidarietà ideate dalla comunità pastorale di Bernareggio in Brianza, grazie alla collaborazione di un supermercato locale. I consumatori possono caricare i punti assegnati ad ogni acquisto su una tessera intestata alla parrocchia, che usa poi quei punti per aiutare le famiglie in difficoltà o con generi di prima necessità distribuiti dal locale centro di ascolto o con tessere prepagate. In accordo con la catena di distribuzione, con il direttore, cerchiamo di capire quali possono essere le strade che si possono percorrere attraverso i punti che abbiamo raccolto o in materiale oppure anche convertirli in tessere spesa che noi poi possiamo dare alle persone che sono nel bisogno, nella necessità che così possono andare a fare la spesa e fino alla cifra indicata sulla tessera non pagano nulla. La cura della comunità ecclesiale per i più bisognosi è seguita con attenzione dagli abitanti della zona e dai fedeli, che alimentano anche il fondo di solidarietà istituito per aiutare le famiglie a pagare anche le bollette, gli affitti e le rate. È un modo concreto per aiutare le famiglie nel bisogno, soprattutto per quello che sono il pagamento delle utenze e degli affitti. La maggior parte sono le utenze domestiche, che uno gli arriva la bolletta a casa e dice io non ce la faccio a pagare. Un anno di pandemia ha infatti lasciato il segno anche in questa zona dove è aumentato il numero delle famiglie che si sono trovate senza lavoro e senza reddito.